Ooooooooooooooooooooooooooooooo Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mek Show Ci riprendiamo dal punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata Siamo pronti ad affrontare quel teschio Quindi non credo che prometta niente di buono Sequenza 4, overdose Signor Fry, confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen Oh sì, abbiamo avuto una piacevole chiacchierata Ho scoperto che dietro all'elisirle nitivo di Starric c'è John Eliotson Il dottor Eliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo Era un brillante cardiologo finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo Una carriera rovinata Bene, come procediamo? Con tutto il rispetto, signor Darwin, ma devo continuare da solo Dopotutto, meglio non attirare troppe attenzioni Mi sembra molto saggio A presto amico Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero, vi prego Venite da me Eh, non me lo dico così, che sembri tipo il vecchietto dei Griffin Con Chris Che poi, tra l'altro, questo Vieni da me Diciamo, mi fa suonare un campanellino all'interno del cervello Che parla, che sprizza DLC da tutti i pori Anche perché sapete, ragazzi, che con la special edition, la limited edition C'era anche, appunto, DLC con Darwin all'interno del gioco Ma detto questo, ragazzi, andiamo Dobbiamo raggiungere il punto elevato L'ho raggiunto prima di iniziare a registrare Ho sbloccato, appunto, la zona della mappa, come potete vedere Ma dobbiamo andare lì sotto Comunque, ragazzi, dobbiamo andare a fare una bella visitina al manicomio Dove c'è questo Elliotson Che apparentemente Non lo so Si è dato alla frenologia Evidentemente anche lo stesso Darwin lo conosceva Sapete che cos'è la frenologia, ragazzi? È una... non è una scienza È tipo un... Una dottrina, probabilmente Una corrente di pensiero Che... pensate quant'è stupida, eh Cioè, vabbè, quant'è stupida oggi Cioè, il tempo magari qualcuno la prendeva Ovviamente per vera Come il signor Elliotson Però, ragazzi Oh, cazzo Oh, cazzo C'è sangue dappertutto Bene, come inizio non c'è male Non so perché, ragazzi Ma ora mi è venuto un flash Manicomio Manicomio O ospedale, quello che volete Di Until Dawn Ve lo ricordate? Mamma mia, che sgommate che abbiamo fatto Comunque, la frenologia praticamente è questa dottrina Che pensa che... Insomma Chi la seguiva Insomma, pensava che Si potesse Stilare un profilo psichico Di un paziente Comunque di una persona Attraverso la morfologia Quindi la conformazione Non lo so Del cervello Quindi, a seconda di Che tipo di cranio Che tipo di testa Aveva Il paziente Comunque la persona Potevamo dire Se quello era Che ne so Pazzo Oppure Eccolo, eccolo Oddio, che sta a fare? Ah Come avete potuto notare A volte applicando Un'eccessiva pressione Si va incontro A risultati inattesi Purtroppo L'organo si è Rovinato Eh Dio ragazzi Non bene sta cosa Portatemi un cadavere Subito Dottore Non mi importano I tuoi principi E ancor meno I tuoi dannati pazienti Ora dammi le chiavi Che cosa fai? Non hai sentito? Ti licenzio Ora vattene Abbiamo delle strategie Delle opportunità Buono ragazzi Dobbiamo assassinare John Elliotson Possiamo utilizzare L'infermiera Oppure Il giovane medico E ci da un'opportunità Di uccisione speciale Beh ragazzi Che dite? Io Proverei Andare con Con l'uccisione speciale Dobbiamo fermare La seduta di terapia Eccolo qua Il giovane medico Sblocca un'uccisione speciale Sostituisci dal cadavere Per raggiungere Il teatro anatomico Ok Voglio fare assolutamente questo Però dobbiamo andare In basso Quindi Ah Prima eravamo passati Tipo in una Non so Delle scale Avevamo visto Ok Tenuta da stealth E via Si va a comandare Insomma ragazzi Tornando a quello Che vi dicevo prima Della fenologia E vi do dei momenti Didattici Tac tac Proprio interessanti Così Magari Vi possono servire Nella vita No Vabbè non credo Però E' sempre bello ragazzi Elargire Momenti didattici Perché Nella nostra natura Succede da Far cry E continuiamo a farlo Ah Pensavo che prendiamo Delle chiavi Mi sei inutile Quindi muori Insomma ragazzi Fenologia appunto Che A seconda Del cranio Della forma del cranio Si poteva definire La personalità Comunque Addirittura ragazzi Capire se Una persona Era un criminale O no Cioè Per farvi capire Tanta gente In quel periodo Se aveva La testa Il cranio Con una misura Con determinate misura Veniva imprigionata Perché era Considerata appunto Tipica Del Del criminale Insomma Del ladro Dello stupratore Dell'assassino Insomma Ok ragazzi Che erano tempi bui Però a cazzo Cioè Momenti così Uccidiamo questi due Tra l'altro ragazzi Non solo Per esempio Si pensava che i neri Erano Appunto Inferiori All'uomo bianco Proprio per Anche e soprattutto Per la conformazione Del cervello Quindi Si erano un caragno Così erano più stupidi Tanto è vero Che muovete Dopo la bomba Cioè Questa mi è venuta adesso James Joyce Grazie Ragazzi Avete mai visto il film Django Unchained Beh Vi ricordate il pezzo In cui c'è Leonardo Di Caprio Il signor Candy Che Prende un teschio E cerca di spiegare A Django E al signor Schultz Appunto Perché i neri Sono inferiori No E gli racconta Tutto la storia Del Insomma Del servo Comunque Dello schiavo Che Per anni e anni Era Era stato Insomma Con il padre E aveva tutti i giorni L'opportunità Di tagliargli la golla Perché gli faceva la barba Ma lui Essendogli leale Secondo lui Perché era stupido Non lo ha mai fatto Quindi non l'ha mai fatto E quindi Sei stupido Cioè Era inferiore Bla 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 Insomma Capite ragazzi Quante cose Si possono Apprendere Se seguite le serie Di Mike Show Ma a parte gli scherzi Voglio sapere Sotto nei commenti Dove trovate Collegamenti Testotivo Cioè Manca a scuola Manco le tesine De scuola Fanno sti Sti Collegamenti E tutto questo Mentre gioco Quindi Pensa alle cazzate Che sparano A vita reale Ok Cioè Le cose belle Dobbiamo nascondere Il cadavere Ma ovvio Che se lo nascondo Qua non va bene Credo proprio Che ci sia un posto Dove andarlo a portare Perfetto Allora sbrighiamoci ragazzi Buono Mi pare pure In una puntata No Non so No Non mi ricordo Se era i griffi E no dei simpson C'era una cosa Del desto tipo Vabbè ragazzi Ormai Per esempio I simpson Non li seguo Neanche più Anche perché Saranno 20 anni Pure di più Che fanno Nuovi episodi E gli ultimi Non è Che li abbia seguiti No ma hanno giocato All'ultimo Dai dai Come se non fosse successo Niente Secondo me Facciamo un'uccisione Glamorosa Tutto regolare Fatte le due domande Se mo ci stanno Degli stivali No Ecco dottore Continueremo con l'esperimento Tra un attimo Confronteremo i cervelli Di entrambi i soggetti E siccome tutti e due I soggetti Avevano una propensione Alla violenza Riscontreremo Protrusioni analoge In alcune aree Del cervello I cadaveri Non portano stivali Esatto Sono qui per ucciderti E a passarti Attraverso No me l'immaginavo Però un po' più Spettacolare Così è finita Eh già Eppure penso Al nuovo inizio Ho un futuro migliore Scaturito dal sangue Dei visionari Io vedo solamente Il sangue Di un pazzo Credi davvero Che uccidere un vecchio Ferberà il grande Architetto del mondo Crew for the Starric Ha piani gloriosi Per l'umanità I piani Possono essere cambiati Sei un bambino Un bambino Che crede ancora Di poter raddrizzare Il mondo A colpi Di spada Non hai mai pensato Ne conseguenze Delle tue azioni Jacob Fry O da tuo padre Non hai appreso Nulla Riposa in pace Uomo barbuto Insegna agli angeli La fenologia Vabbè ragazzi L'abbiamo ucciso C'è stata poca interazione In realtà Abbiamo sicuramente Però fermato Lo spaccio Comunque Colui che aveva inventato L'elisir lenitivo Questa nuova droga Vi vorrei parlare Un po' anche Del padre Oh ci tocca scappare Fuggiamo Magari ragazzi Utilizzeremo La prossima puntata Per parlare di questo Però Avete visto come Spesso e volentieri Viene buttato in mezzo Il padre Di Jacob e di Ivi Da quello che ho capito Io leggendo Magari Oh porco Due Eh vabbè Caciara ragazzi Fuggiamo Non in grande stile Ma chi se ne frega Dicevo Quello che sono riuscito Io a capire È venuto meno In giovane età Per tutti e due I gemelli Però In tempo Da insegnarli Insomma La retta via La via Dell'assassino Del credo Ma soprattutto Ragazzi Il senso Del dovere Gli ho lanciato Un coltello Così a buffo Vabbè Fuggiamo da qua Ragazzi Magari L'approfondiremo Nella prossima puntata Adesso Usciamo da qui C'è bisogno Di fuggire Scappare Darsi Oh perfetto E questa Bravi Rooks Copritemi Proteggete la mia uscita Intanto metto sotto Gente a caso Un tempo Ezio Auditore Non uccideva I civili Jacob Jacob Fry Sì E va ragazzi Siamo riusciti Penso che abbiamo Anche terminato Sì Abbiamo terminato Anche questa sequenza Sbloccato il revolver Modello 1 Perfetto Sì sì E la produzione Di Elisir È cessata Oltraggioso Fry Intende consegnare Londra Nelle mani Del crimine O magari Non ha nessun piano Preciso E si diverte solo A giocare Con le nostre vite E il manicomio È chiuso L'intero settore Medico della città È nel caos Lui non sa Non comprende Le conseguenze Delle sue azioni Quell'uomo È un vero anarchico Signori Questo tè Mi è stato portato Dall'India Via nave Poi è giunto Allo stabilimento È stato impacchettato E un carro L'ha portato A casa mia È stato messo In dispensa E poi preparato Per me Il tutto Da uomini e donne Che lavorano Per me Che devono A me Crawford Starrick Il loro lavoro Il loro cibo E la loro stessa vita Lavorano nelle mie fabbriche Come pure i loro figli E voi venite a parlarmi Di questo Jacob Frey Un insignificante ratto Che osa chiamarsi Assassino Voi insultate La città Che lavora di giorno E di notte E che ci permette Di bere questo Questo prodigio Il tè Ho quasi terminato Le mie ricerche La nostra amata Londra Non dovrà sopportare Un così folle criminale Ancora a lungo E che mi dite Di sua sorella Miss Fry Miss Fry Verrà eliminata Molto presto Delizioso Scusa l'interruzione Iniziato Volevo dirti Che Sean e Rebecca Sono sfuggiti A Ozzo Berg Berg ha un'unità Il Team Sigma Violet da Costa E il suo supporto Cacciano e uccidono Gli assassini Da un bel pezzo Per fortuna Stai bene Beh Sì Sai Ci vuole ben più Di un super soldato Templare Per porre fine Alla storia Di Sean Macho Hastings Stavo parlando Con Rebecca Bene A ogni modo Se c'è Berg È sicuro Il frutto dell'Eden È a Londra I dati di iniziato Fanno pensare Alla Sindone I Templari Sembrano volerla A tutti i costi Adesso C'è qualcosa Che ci sfugge Però sappiamo Che non si può affrontare Il Team Sigma Da soli Ci pensero io Nel frattempo Teniamo un basso profilo Iniziato Deve trovare altri dati Vabbè ragazzi Dai io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata Abbiamo sentito che cosa sta succedendo nel presente Abbiamo soprattutto avuto la prima vera interazione con Staric Che secondo me c'ha un carisma assurdo È un hipsterone però Ci piace Per il resto ragazzi Scopriremo di più nelle prossime puntate Mi raccomando Lasciate tanti commenti Lasciate tanti mi piace Fatemi sapere che ne pensate Un saluto a tutti A me Ciao 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 Ciao